Buongiorno e benvenuti al FIA di Rimini, l'ultima volta è stato tre anni fa, siamo di nuovo qui e come sempre è un bellissimo evento, è un evento che catalizza l'attenzione di tutta l'industria e quindi a noi fa molto piacere di essere presenti, di essere sponsor dell'evento stesso. Cosa presenta WIDEX quest'anno al FIA? Ora, presento un nuovo prodotto, ma prima di parlare del prodotto desidererei parlare di quello che c'è dietro al prodotto, ovvero di qual è la filosofia che WIDEX ha utilizzato nello studio di ricerca e sviluppo del prodotto stesso. Parliamo di tre pilastri, un primo pilastro che noi definiamo Real Life Hearing, ovvero l'esperienza uditiva avviene effettivamente nella vita reale di tutti i giorni dei pazienti. Una qualità di ascolto che da sempre ci contraddistingue sul mercato, che continua ad essere ulteriormente migliorata grazie a nuovi protocolli e a nuovi algoritmi. Ed infine il terzo pilastro è il pilastro della vera novità del prodotto, ovvero il prodotto che è il primo prodotto al mondo sul mercato dotato di un sistema di machine learning, quindi di autoapprendimento, quindi è un prodotto che con l'esperienza di chi lo indossa migliora sempre di più la qualità sonora e raffina sempre di più la qualità sonora per quanto riguarda la volontà del paziente di voler andare a trovare il miglior momento di ascolto in quella situazione piuttosto che in un'altra. Quindi, detti questi tre pilastri su cui fonda la strategia di WIDEX, a questo punto parliamo del prodotto che si chiama WIDEX EVOC, un prodotto che in verità è sul mercato da qualche mese, quindi oggi lo sicuramente ripresentiamo con enfasi, ma sulla scorta anche di una bella esperienza di qualche mese di feedback da parte dei clienti che l'hanno utilizzato. Ed il feedback è effettivamente un feedback estremamente positivo, il prodotto risponde esattamente ai tre pilastri che vi ho descritto precedentemente, perché è un prodotto che dà effettivamente al paziente la possibilità di utilizzarlo e di modificare la qualità di ascolto nella vita reale, il secondo è la qualità sonora che è ancora una volta sicuramente la migliore che abbiamo potuto mai mettere sul mercato, ed infine il sistema di autoapprendimento, quindi il prodotto che man mano che il paziente lo utilizza apprende la volontà del paziente e la memorizza, in modo tale che può restituire poi al paziente la miglior qualità in ogni situazione nella quale il paziente si è già venuto a trovare. Quindi per quanto riguarda l'apparecchio acustico, sicuramente WIDEX EVOC è il prodotto sul quale stiamo spingendo, è il prodotto che ci sta dando molte soddisfazioni, non solo da un punto di vista commerciale, ma proprio di feedback da parte dei pazienti che ci dicono effettivamente che il prodotto risponde alle promesse che noi abbiamo fatto al mercato. Per passare poi ad un altro paio di prodotti accessori che sono veramente una novità, perché questi non sono ancora stati presentati altrove, quindi questa è la prima volta che ne parliamo in Italia, parliamo di un TV Play, quindi un prodotto che permette al paziente di potersi collegare con gli apparecchi direttamente tramite il TV Play al televisore con un protocollo a 2.4 GHz e quindi senza la necessità di avere uno streamer al collo e con la possibilità sempre attraverso una app di governare e di comandare il TV Play e poterlo quindi adattare alla sua esigenza del momento. È un prodotto anche di un design molto particolare, invito tutti a venirci a trovare lo stand per poterlo guardare, è un prodotto che è stato insegnato proprio recentemente del premio Red Dot proprio per il design del prodotto stesso, prodotto del quale andiamo molto orgogliosi. E infine, ma non per ultimo, un nuovo Fondex, un Fondex molto più evoluto rispetto a quello che avevamo sul mercato fino ad ora, è un prodotto dotato di segreteria telefonica, dotato di molte memorie, dotato di un display molto ampio e di tasti altrettanto ampi, proprio per andare incontro all'esigenza del paziente un pochino più senior che magari oltre ad avere un problema di ipacusia potrebbe avere anche un problema di ipovedenza. Quindi sicuramente un prodotto molto molto adatto al target di pubblico verso il quale ci rivolgiamo. Ancora che dire, benvenuti, siamo tutti felici di poter cominciare questa esperienza qui a Rimini e vi aspettiamo allo STEM. Grazie a tutti e buona giornata.